No, 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 e poi anche prima di venire qui, santo è, in un momento dipende da parte, voi canzoni, sono toccati i passi, io ti becco, io ti stavo in mente, ma comunque noi da casa siamo là, la lingua è vista, la lingua è vista, la lingua è vista, la lingua è senza fare alcun piedi lavori, salvo poi arrivare due mesi prima delle elezioni e iniziare a tappare i buchi per le strade, pulire un po' i marciapiedi, dare commesse, perché le commesse che vengono date sono voti che rientrano, questi sono i nostri politici, i nostri partiti, danno la causa per avere i voti, sono accorti con i lobby, con i vostri poteri, no, 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 eh, no, 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 the public, ciao, 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 bella giornata, questa anche un bel movimento, questa è la prima volta Qua c'è tanta gente. Questa è come se fosse la via del paese. Ma poi comunque già da dove siamo usciti dalla metropolitana, comunque era subito visibile, diciamo tramite le bandiere, quindi anche un buon posto. Noi dovremmo stare qui, un po' più all'interno, però qua si mettono gli altri. Sì, sì, Elio. Ma non ci sta niente davanti all'alto. Vai andate, fai qualche gira di istra e vai a fare qualche fotografia. Non ti non te lo senti? Elio. Vabbè le faccio io. A me, a me, soltanto 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 a me. Non sento il click. Perché ci, ma tu hai messo anche il video, perché stai registrando il video. Sì, ma io pensavo che tu volevi fare una fotografia. Sì, ma in contemporanea, in contemporanea.